Prima del vertice non dice nulla, dopodiché che le prospettive siano buone tu lo credi, Goffredo? No, devo dire peraltro che sono d'accordo con Anna-Lisa su un fatto che i sovranisti non si battono con più sovranismo, si battono con più Europa. E se Macron fa il sovranista, e Macron fa il sovranista perché Macron fa il sovranista e per questo non credo nelle buone prospettive. Perché qui noi ci siamo avvicinati, poi spero di essere smentito fra poche ore e sarò contentissimo, Noi siamo avvicinati al vertice con un eccesso di ottimismo, di speranza, perché c'è un equivoco molto grosso, finché non si scioglie questo equivoco non ne usciamo, che è la distinzione tra i richiedenti asilo e i cosiddetti migranti economici. Allora, i migranti economici sono il 90% delle persone che arrivano sulle nostre coste via mare, quindi se, come pare, la Francia rifiuta... Che rifiuta, rifiuta di prendere i migranti economici. Stiamo parlando di una cosa che non esiste proprio, se addirittura, ho sentito dire che si parla soltanto di quelli salvati a mare, quindi non con i barchini di cui tu hai parlato, e quindi si toglie un'altra grossa feta. Ora io capisco se Macron ha dei problemi, perché lui ha elezioni amministrative a breve, ha l'Ale Pen poi che incombe. E peraltro lui ha fatto delle dichiarazioni fortissime, in senso, diciamo, populista, molto di recente. Ha detto, guardate, i borghesi non incontrano le immigrazioni. E sono le classi popolari che se la vedono con le immigrazioni. Cioè ha proprio sterzato, dicendo anche una cosa condivisibile, perché è vero quello che dice lui. Però il problema è, ripeto, pensare di battere l'Ale Pen senza preoccuparsi del fatto che se ci mollano, come tu dici, il sovranismo in Italia stravince. E questo sarà un grosso problema anche per me, se Macron è un caso di miopia molto grave.